un applauso all'avvocato Dondina sarà il giudice che giudicherà il nono raggruppamento le razze da compagnia ma dov'è? l'ho perso l'avvocato ah sta arrivando grazie avvocato Dondina grazie ecco Paolo Dondina grazie mille possiamo fare entrare i cani barbone grande mole bianco grigio giapponese maltese bull francese cavalier king bolognese ho perso il conto siamo al Boston terrier bichon pechinese chin credo vedo bene adesso poi ve li ridico quando sono un po' più vicini non sono tanti è piccolo Carlino potevate stare tutti su una riga non importa poi li rimetteremo allora questi vi ripeto signori sono cani da compagnia sfila il Carlino c'è un tavolo avvocato se ne ha bisogno barbone grande mole bianco al centro del ring maltese Boston terrier pecchinese bichon bull francese grazie a tutti gli altri grazie mille possono lasciare il rinco i nostri applausi grazie li abbiamo messi a posto per le riprese televisive vi ricordo www.animalnews.tv intanto prego tutti i levrieri il decimo e ultimo raggruppamento di presentarsi nel pre-ring sfilata per il barbone grande mole bianco vedete vi dicevo prima delle tipologie di tolettatura questo è diverso da quello che avete visto prima questo è il maltese il boston terrier sfilata ora il pechinese l'ultimo cane della compagnia è il bull francese come prima chi sarà al primo posto si ripresenterà dopo i levrieri tutti in giro grazie mille i nostri applausi stop grazie avvocato Dondina terzo posto merci monsieur a vous per il Boston Terrier secondo posto è il per il Barbone Grande Mone Bianco lo rivedremo per il best in show signori ed è il Maltese complimenti un giro di ring applausi 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 miglior soggetto della compagnia alle fotografie podio Royal Canin che sponsorizza questa esposizione guardate che belle coccarde che belle coppe che belle presentatrici tre donne complimenti grazie mille